Mi chiamo Danilo Celano, nascito in Italia, in Vasto, il 7-12-1989. Inizia quasi per caso a la edad di 17 anni, molto tardi, ma poco a poco mi nemmoré di questo deporte. Sono un corredore molto... un escalatore, però mi defiendo bene nel lote. Questo secondo anno è stato un salto abbastanza grande, sono contento di aver ricevuto un buon risultato e spero di continuare così, migliorando. Di sicuro lo più buono è la vittoria nel giro dell'Openino e anche correre con la camisetta della selezione italiana, è stato un sogno per me. Quando ho apprendito la notizia ero molto contento di cominciare questa temporada con K.R.R. È un equippo che da quando ho cominciato a correre mi affascinò nel primo momento per me. È un equippo che non sono veloci, ma sono corredori similiari a la mia caratteristica. e spero nel primo momento di cambiare la fiducia che l'equipo ha ottenuto a me e di dimostrare il mio valore e di seguire così. Grazie a tutti.